Ciao a tutti ragazzi, sono Kendal e benvenuti in questo nuovissimo video della Candy Craft, il mio mondo personale. Se non avete mai visto un episodio, beh allora vi faccio un piccolo tour molto velocemente, questo è il mio mondo, è molto bello, sì, è tutto qua. No, a parte gli scherzi, sapete bene che io carico video della Candy Craft all'incirca una volta alla settimana, a volte due, proprio se siete fortunati, ecco, dipende un pochettino da come mi gira. E nello scorso episodio Bella Faccia ha provato a rubarmi 45 diamanti, o erano di più, forse erano 40, 43 o 47, non mi ricordo, 43 ha provato a rubarmi 43 diamanti. A detta sua voleva farmi un regalo, io personalmente non ci credo molto. Questo mi ha fatto capire che non ho abbastanza diamanti, ne abbiamo bisogno di molti, molti di più, perché voglio fare un beacon block. Ancora non so bene dove metterlo, sinceramente, però abbiamo ucciso il Wither per un motivo, infatti come vedete lassù ho messo la stella... sono caduto. Dicevo, lassù ho messo la stellina del Wither, la stella del Nether, e quindi la dovremmo utilizzare prima o poi. Dovrei farlo un passaggio qua sotto, perché è sempre così scomodo risalire su nella montagna. Quindi, in questo episodio, ragazzi, visto che non vado in esplorazione delle caverne da tantissimo tempo, ho pensato... Mmm, c'ho un piccone con fortuna, c'ho un bel po' di caverne da esplorare nel mio mondo, potrei andare a cercare dei bei minerali, tanti bei diamanti, smeraldi, oro e ferro. Fatemi cercare il piccone con fortuna, allora, questo è Efficiency 4 Silk Touch, ma il fortuna è mio, perché... Ah, il fortuna è questo! Ok, quindi il piccone con fortuna lo stavo già utilizzando. Fortuna 1, però, mmm... potrei fare di meglio, potrei fare decisamente di meglio. Potrei provare a enchantare questo semirotto, e poi aggiungerli insieme. Mmm, vediamo! Magari con un po' di fortuna riesco a trovare l'enchant e fortuna. Ah, devo smettere di fare queste battute. Ok, vediamo che cosa mi può uscire, non mi ricordo, perché non l'enchant ho da tanto tempo. Fortuna 3! Ok, è arrivato il momento di farsi 30 livelli, e per fare 30 livelli come posso fare? Beh, potrei pescare, potrei uccidere tutti quanti i miei polli, oppure potrei andare nel Nether. Ho paura, però, che se dovessi andare nel Nether, mi cambi l'enchant. Quindi da fortuna 3 mi diventi qualcos'altro. Cavolo, fortuna 3, ragazzi, fortuna 3 è tantissimo. Oh, sentono i mostri, bene, tu mi servi, mi serve la tua esperienza. Quindi muori, grazie. Ragazzi, chiudete gli occhi, perché adesso succederà qualcosa di molto spiacevole. Oh no, cos'è successo a tutti questi polli? Ah, abbiamo fatto 30 livelli! Perfetto, non so come, però ne abbiamo 30. Allora, visto che io non voglio sprecare un enchant così potente in un piccone praticamente semi rotto, potremmo provare a crearne un altro. E vedere se mi resta lo stesso in entico enchant in un altro piccone. Nuovo. Perché se dovessi trovare fortuna 3, ragazzi, divento ricco. Con fortuna 3 mi posso fare veramente centinaia di migliaia di diamanti. Bene, andiamo a testare la nostra fortuna. Fortuna 3, cavolo, fortuna 3, fortuna 3. Non ho mai utilizzato un piccone con fortuna 3, mai in tutta la mia vita. E credo sia il massimo. Ok, vediamo che succede. Fortuna 3! Oh mamma mia, ti prego, dammi anche efficiency. Ok, fortuna 3 è basta, però... Cavolo! Cavolo, ragazzi, che enchant pazzesco! Questo ora me lo devo portare per forza in miniera. E so anche in che miniera andare. Sì, sì, sì. Allora, 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 intanto facciamoci dell'altro pane e conserviamolo. Chi l'avrebbe mai detto? Sono riuscito a fare un piccone fortuna 3. Quindi adesso tutti i diamanti che troveremo ce ne daranno un bel po'. Se non sbaglio, con fortuna 3 ogni diamante che mi esce me ne dovrebbe dare tipo dai 4 in su. Anni fa avevo fatto una promessa a voi fan. Ovvero quella di riscavare la tomba di Herobrine. Però poi sono successe tante cose strane. E quindi ho detto, beh, evitiamo di andare a svegliare il can che dorme, no? Però oggi mi sento coraggioso. E quindi... Scaveremo proprio qua. Sotto la tomba di Herobrine. Bene. Allora, ricordo di aver già fatto un passaggio. Quindi possiamo scendere un bel po' fino alla Bedrock. Però ricordo anche di non aver mai esplorato le caverne qua sotto. Proprio perché avevo paura. Perché se non sbaglio in quell'episodio stavano succedendo fin troppe cose strane. E quindi ho detto, beh, sai cosa? Quasi quasi, forse è meglio tornare a casa. Ok, posso scendere ancora un altro po', molto bene. Ok, si può scendere ancora, ottimo. Cavolo, sono sceso proprio in profondità. Adesso siamo a 18, 17, 16, 14, 15! Cos'era, una trappola? Oppure... Cioè, ho rischiato di morircela. Ok, qua già siamo a livello Bedrock. Ce l'ho delle torce? Non ho delle torce! Bravo, Kendal! Solo uno stupido non si porterebbe delle torce in miniera, soprattutto contro Herobrine. Sapete cosa? Quasi quasi torno su. Ah, ma qua ci sono già le torce. Ma allora l'ho esplorata questa. Fammi prendere questa che almeno mi fa luce. Ok. Cosa? No, non ci posso credere! Ho trovato gli diamanti subito, ma... Perché non li ho presi prima, allora? Vediamo quanti? Tre! Oh, un altro! Cavolo, devo stare attento. Potrebbe esserci della lava. Sento l'acqua, in realtà. Quindi la lava non ci sarà, sicuramente. Vai. Ok, quanti? Otto diamanti! Fantastico! Puoi vedere che sono quei diamanti che tutti quanti mi dite Oh, Kendal, hai lasciato di diamanti al minuto otto! Perché sicuro, ogni volta che faccio un episodio in miniera c'è sempre qualcuno che mi dice Ah, hai dimenticato dei diamanti al minuto otto! Hai dimenticato dei diamanti al minuto quindici! E mi sa che i diamanti sono proprio quelli! Bene! Adesso si sono triplicati! No, in realtà non so quanti erano. Comunque ne abbiamo otto adesso, quindi siamo ricchi. Eh, ok. Saliamo. Vado a prendere delle torce e poi torniamo in miniera. Ah, per fortuna che ho collegato tutto quanto con i ponti. Questo lo dobbiamo sistemare. Eh, credo sia arrivato il momento di andare a dormire. Sì, 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 sì. Non vorremmo di certo risvegliare Aeroprine. Ciao Pinotto. Yogurt, dove sei? Ce l'ho del pesce? Ecco il pesce. Tieni, piccolino. Adesso possiamo ufficialmente chiuderci in miniera e cercare 64 diamanti, 64 di smeraldi e 64 di oro. Non riusciremo mai a trovare tutti questi smeraldi, diamanti e oro. Però vabbè, noi ci possiamo provare. Eh, in realtà sai cosa? Forse l'oro lo possiamo trovare. 64 di oro si può fare, sì, sì, sì. Con il piccone fortuna l'oro si moltiplica? O forse no? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché non mi ricordo. A noi, stupido Aeroprine. Sì, adesso ti scaverò nella tomba e torneremo giù negli abissi. Devo stare attento perché a un certo punto ci sarà un bel burrone e cadrò giù. Quindi devo stare molto attento dove scavo. Ok, ecco, adesso dobbiamo scavare di qua. Oh no! Bene. Ah, perfetto. Allora, qua è dove ho trovato i diamanti prima. Quindi mettiamo le torce così almeno mi ricordo che di qua ci sono già passato. Molto bene. Oh, perfetto. Vediamo, si moltiplica? No, me ne dà uno solo. Allora mi sa che conviene utilizzare quello con efficiency. Ok. Oh, ma quanto oro c'è? Sì, vabbè ragazzi. Ne ho già trovato dieci. Ok, mettiamo tutto qua. Mettiamo diamanti e oro qua. Ok, i lapis li potremmo anche prendere per i livelli. Quindi... Oh! Mamma mia che paura. Ma che sei scemo? Ma che sei scemo? Ho preso un colpo, mi ho preso. Mamma mia che paura ragazzi. Che paura, che paura. Oh! Non ci posso credere. Ma mi sono dimenticato di prendere l'acqua. C'è dell'acqua qua? Sì. Prendiamo l'acqua. Ma qua c'è uno smeraldo! Aspetta. Se c'è uno smeraldo significa che ci potrebbero essere anche i silverfish qua nelle vicinanze. Devo stare attento a non rompere la pietra sbagliata. Intanto prendiamoci questa. Blocchiamo il flusso di lava. Mettiamo dell'acqua. Molto meglio. Ok. Cioè siamo a ben due. Tre. Tre soltanto? Non ce n'è un altro nascosto. Dai, su. Su, non esser timido. Fatti vedere. Ok. Siamo alla bellezza di dodici diamanti. Beh, me ne aspettavo un pochettino di più a dir la verità. Perché abbiamo trovato ben due vene di diamanti. Comunque continuiamo a esplorare perché ne potremmo trovare degli altri. Il ferro al momento... Oh, fantastico. Fantastico, fantastico. Dicevo, il ferro al momento lo ignoreremo. Perché comunque ne ho già tantissimo. Quindi chi se ne frega del ferro. E qua c'è anche una mineshaft. È uno scheletro che è appena morto. Oh, cavolo. Si scende un bel po' qua. Piano, piano. Ad uno, ad uno. Ho un'armatura piuttosto potente. Non mi potete fare del mare. Ma quanti siete? Oh, ma che c'è? Uno spawner. Allora, fammi prendere un attimino questo oro. Ok, allora. Qua siamo a livello 27. Quindi i diamanti qua non ci possono essere. Però continuiamo per lustrare la zona. Eh, senta, per favore. Non compro nulla. Vuoi vedere che oggi ci muoio qua in caverna. E da un bel po' che non muoio, in effetti. Un altro smeraldo. Fantastico. Non voglio scavare la stone, ragazzi. Perché sono sicuro che se dovessi scavarla... ...potrebbe uscire qualche silverfish. Ok. Questa caverna al momento sembra essere... ...vuota. ...la c'è abbiamo della redstone. Qua c'è qualcosa di utile. Là c'è dell'oro, però. Ehi, non ti avevo visto. Cos'è? Pensavi di scappare? Na, na, na. Non scappi. Uno. Due. Tre. Quattro e cinque. Fantastico. Per favore. Ma ti è passata... Ti è passata in testa la freccia. Ma come è possibile? Allora, io sono venuto da qua. No, non sono venuto da qua. Da dove sono venuto? Da qua. Ecco. Perfetto. Qua abbiamo un altro bucherellino. Dove porta questo bucherellino? No, non devo usare il piccone con fortuna. Cavolo. Se lo spreco, poi, è un peccato. Eh, sì. Mi sono dimenticato che se io continuo a scavare questa stonda potrebbe uscire un silver... Ah! Ecco! Oh mio Dio, l'ho detto! Oh mio Dio, l'ho detto! No, 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 no. Muori. Muori. Li ucciti tutti? Sembra di sì. Ok. Ci abbiamo dell'acqua. Piazza l'acqua. Diamanti! No, no, vabbè. Ma ragazzi, ma che fortuna c'ho oggi. Aspetta, aspetta, aspetta. Piazza l'acqua qua. Uno. Due. E tre. Uh, un altro. Quattro. Quanti ne abbiamo? Diciannove! No, vabbè, ragazzi, ma stiamo scherzando. Diciannove diamanti. E un altro smeraldo. Sì, vabbè, oggi... Ok, oggi è la mia giornata fortunata, allora. Bene. Diciannove. Dodici smeraldi, diciannove diamanti, diciotto di oro. No, vabbè. Per fortuna che siamo andati alla... Un altro smeraldo. Per fortuna che siamo andati alla ricerca, ragazzi, oggi. Ok, intanto... A te ti avevo sentito prima. Ecco, ne ero sicuro. Ma mi prendi in giro? Ho trovato degli altri diamanti. No, non è possibile. Mi stai trollando? Ventotto! Ce ne sono altri? Beh, su. Non li posso trovare. Oh mio Dio, invece... Ah, sì, ok. Pensavo fosse un diamante. No, no, no. Un altro smeraldo. Ok. Siamo a 15, 28, 18. Non ho mai avuto più diamanti di oro. Ma che razza di fortuna sfacciato sto avendo oggi? Non ho mai trovato così tanti diamanti in tutta la mia vita. Trenta. Ne ho trenta. Ragazzi, ditemi voi se ho mai trovato così tanti diamanti negli episodi della Candy Craft. Cioè, sicuramente qualcuno li avrà visti tutti e se li ricorda. Ho mai trovato così tanti diamanti? Io non credo. E qua che cosa abbiamo? Dai, dai, dai. Altri diamanti, altri diamanti, altri diamanti. No. Oh, smeraldo. Bene, bene, bene. Gli smeraldi, ragazzi, ci possono servire. Possiamo commerciare. Ho finito tutte quante le torce. Quindi mi sa che conviene scavare un pochettino di carbone. C'è del carbone qua? Ecco qua. Un altro smeraldo. No, vabbè, raga. Non ne ho mai trovati io così tanti in tutta la mia vita di Minecraft. Mai. Oggi sono diventato ricco. Ricco, ricco, ricco. 25, 30, 20. Wow. Wow, 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 wow. Nessuno mi potrà fermare oggi. Nessuno. Mi comprerò tutto l'impero. Ma qua c'è un lago gigante di lava. Ok, qua ne troverò sicuramente degli altri. Al 100%. Oh, chi è? No, 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 no. Vai via, schifoso. Muori dentro la fogna. Mamma mia. Eh, questo è l'unico peccato che mi trovo in Extreme Hills e devo affrontare i Silverfish. E sapete bene tutti quanti che non esiste nemico peggiore per me. Ma qua ci sono già passato, c'è una torcia. Oddio, sono tornato al punto di prima. Sono tornato al punto di partenza, mi sa, ragazzi. Sì, sì. Ok, sapete cosa? Si sta facendo tardi. Quindi io tornerei a casa, vado a depositare tutti questi tesori. E poi concludiamo l'episodio. Cavolo, che fortuna che abbiamo avuto oggi. Recap della situazione. 20 esmeraldi, 30 diamanti, 30 di oro. Cioè, proprio perfetti poi. Neanche a dire 31, 32. No, 20, 30, 30. Ottimo. Ah, vabbè, ragazzi. Questa giornata non poteva andare meglio. Sono riuscito a fare il piccone fortuna 3. Ho trovato tutti questi tesori. Che altro devo fare? Che manca? Basta. Mi si sta rompendo l'arco, tra l'altro. Quindi vi dovete spiegare come posso ripararlo. Perché è un arco piuttosto potente. Power 5, infinity. Quindi, se riuscissi a trovare il modo per ripararlo, sarebbe meglio. Mi sa che conviene che non lo uso più per un po'. Sì, sì, sì. Ditemi qua sotto nei commenti come si ripara l'arco. Perché io non ne ho la minima idea. Ok. Beh, Natale è arrivato in ritardo. Ma mi ha portato veramente tanti doni e tanti bei regali. E adesso è arrivato il momento di posarli. Oh, 64 più 6, 47 smeraldi. No, vabbè ragazzi, sono ricco, sono ricco, sono ricco. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video della Candy Craft. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa vorreste vedere in un prossimo video. Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Perché, beh ragazzi, guardate dove mi trovo. Cioè, eh, secondo me l'iscrizione se la merita. Dal vostro Candle è tutto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!